Ci difenderemo da Hitler con perseveranza e con grande forza di carattere e col nostro rifiuto di soccombere alla tirannia e all'oppressione. Le 24 ore più difficili del grande statista inglese alla vigilia del giorno che segnò la storia della Seconda Guerra Mondiale. Il D-Day sarà un disastro, Smooth. Sbarcheremo come da piano, Churchill. Fine della discussione. Non pensi a quanto ci costerà se facciamo questa operazione! E quanto ci costerà se non la facciamo? Questa operazione militare non è tua. Mi limiterò a parlare! È proprio questo che mi preoccupa.